Creare uno slideshow di immagini Clicca sull'app Slideshow per aprire la barra di modifica. Clicca sulla barra e seleziona l'icona Aggiungi foto. In questo modo potrai selezionare l'immagine direttamente dalla cartella del tuo PC. L'immagine verrà ridimensionata e tagliata in base alle dimensioni assegnate. Potrai aggiungere una nuova immagine cliccando su Aggiungi foto. Ritaglia le immagini all'interno dell'app Slideshow e clicca fuori per salvare.